Le parti mobili della carrozzeria sono tra i componenti più sollecitati del veicolo. La frequente apertura e chiusura del portellone posteriore, del cofano del bagagliaio e del cofano, contribuisce a questo fenomeno. Le forze incontrollate favoriscono l'usura prematura delle molle a gas, riducendone l'efficacia nel sostenere e mantenere la forza e o diventando rigide durante il funzionamento. Le molle a gas febi hanno un elemento di regolazione idropneumatico composto da un tubo di pressione, uno stelo del pistone con guarnizione e sistema di guida e fissaggi facili da installare. Il tubo è riempito di azoto che, a pressione costante, agisce sulle sezioni trasversali del pistone, creando una forza nella direzione di estensione. Questa forza può essere specificata con precisione attraverso particolari pressioni di riempimento per ogni applicazione. Per sostituire una molla a gas usurata, iniziare sostenendo il portellone o il cofano, facendosi aiutare. Sganciare il fissaggio della molla a gas con un attrezzo adatto e staccarla dal veicolo. Pulire e lubrificare i giunti sferici di fissaggio del veicolo e montare la nuova molla a gas. Se il veicolo è dotato di due molle a gas del portellone posteriore, si raccomanda vivamente di sostituirle in coppia. La gamma di molle a gas Febi presenta elementi di design innovativi che si adattano ai requisiti di qualità più elevati, aumentando la facilità d'uso del veicolo e preservando la carrozzeria del veicolo dall'usura. In questo modo si ottiene un'equalizzazione ottimale del peso, sostenendo le forze che sollevano i carichi pesanti del portellone posteriore o del cofano. Le eccellenti caratteristiche di smorzamento assicurano un funzionamento perfetto e reattivo.